Molduzzi 10, 8 Sto cappello della Vincaraguinze Va bene, in mezzo va bene Lorenzo 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 Colasso non ho occhi qui pari un carica che... che piace? caccia vite che dici Lorenzo? Lorenzo che beve la bex sul bicchiere del tubo e no? eh? rrrr Tifilotti Merilli, campione regionale di terza categoria ora in forza della squadra della Pergola roba d'eccellenza l'euro, campione provinciale secondo il campione provinciale questa roba di terza categoria però e spettatori e spettatori la città la città la città saluta a voi 10 g la città la città Grazie.